Amici di Zona Mista, quest'oggi ci troviamo al Bergamo Padel Club e siamo in compagnia di Jessica Campana che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito di Zona Mista. Grazie per l'invito. Jessica, tu hai conquistato il titolo italiano di una disciplina che è l'insieme, che unisce la danza acrobatica e la ginnastica, ovvero la pole dance. Ti va di raccontarci in cosa consiste questa disciplina? Sì, è una disciplina, come hai detto tu, che abbraccia a sua volta diverse discipline ed è proprio per questo che mi è piaciuta e penso che dia l'opportunità a tutti di esprimere se stessi in una maniera diversa. Perché se da un lato, come nel mio caso, si partecipa ad una competizione bisogna lavorare su tutte le tipologie di elementi che sono forza, flessibilità, movimenti dinamici, quelli che chiamiamo spin, cioè giri su palo spin o su palo statico, allo stesso modo ci si può specializzare più in una tipologia di elemento rispetto ad un'altra e quindi si può far emergere le proprie caratteristiche. Ad esempio ti stavo parlando di spin, perché il palo può essere usato in due metodi differenti, può essere statico, cioè non girare, oppure può essere usato in modalità spin, cioè lui gira su se stesso. E anche in questo caso l'atleta o il performer si muove in maniera differente. Su quello statico si possono fare trick più dinamici, anche ruote, salti, quindi ad alto contenuto acrobatico e quando si vuole staccare i piedi da terra e volare intorno al palo bisogna darsi molta spinta e far scorrere le mani attorno a questo palo che è fisso. Mentre sul palo girevole si dà spesso più importanza a un movimento fluido, anche più danzato e lì spesso si fanno maggiormente figure di tenuta che possono essere di forza, di flessibilità e transizioni più morbide. Quindi è come se ci fossero un po' le due anime del palo. Quella di palo statico più energica e quella di palo spin girevole più dolce. Più danzante. Sì, sì. E il tuo è uno sport individuale, ma in realtà alle spalle c'è una preparazione in team. Tu hai due allenatrici che sono Maria Gervasoni e Ingrid Maddalena e una preparatrice atletica che è Viola Valsecchi. Ti chiedo quanto è importante il gruppo, il concetto di squadra? Sicuramente molto, perché ci sono diversi aspetti su cui lavorare per riuscire ad esercitarsi su movimenti di una certa difficoltà ed è anche qualcosa che è motivante, perché dove c'è la collaborazione si riesce ognuno a dare il proprio apporto, a dare ciò in cui si è migliori e mettere tutto insieme rende il risultato migliore e dà anche più fiducia, perché ognuno riesce a dare il proprio contributo nella maniera che sente più fine a se stessa. E tornando invece a te, qual è il tipo di allenamento a cui ti sottoponi? Ci sono, oltre all'allenamento vero e proprio al palo, c'è l'allenamento a secco, cioè senza palo, che consiste sia in una parte di potenziamento, sono principalmente esercizi simili al calisthenics con trazioni, dips e vari esercizi, e una parte di allenamento sulla mobilità attiva e passiva, perché per raggiungere alcune figure bisogna riuscire ad essere flessibili anche attivamente per, per esempio, allungare una gamba e arrivare in una determinata posizione. Un allenamento bello intenso, mi sembra di capire. Come dicevo Paima, sei campionessa italiana e al Palatorino di Roma sei salita sul gradino più alto del podio dopo una esibizione esemplare e hai così conquistato anche l'accesso ai mondiali che si terranno dal 25 al 29 ottobre a Katowice in Polonia. Quali sensazioni? Cosa ti aspetti? Di sicuro sarà un'esperienza emozionante perché avrò l'opportunità di esibirmi con tante altre persone che stimo molto e che a volte sono anche fonte di ispirazione, perché essendo la Polo una disciplina molto varia, ognuno ha le proprie peculiarità e può ispirare anche gli altri in una maniera diversa. Quindi incontrare anche persone che stimo e provenienti da tutti i continenti penso che sia qualcosa di molto emozionante e emotivante. E per concludere ti chiedo quale messaggio senti di trasmettere a chi sta muovendo i primi passi in questo sport? Sicuramente di mettersi in gioco, di aver voglia di sperimentare e di non mollare, di provare perché tutte le cose belle hanno anche un lato impegnativo, quindi se qualcosa può sembrare difficile di non dire non riesco, ma provare e cercare di trovare la tecnica giusta, il modo giusto o se serve più forza cercare di potenziarsi e via dicendo, ma di provare di mettersi in gioco. Sicuramente ci sono sacrifici da fare, però poi come hai dimostrato si può avere grossa soddisfazione. Io Jessica ti ringrazio nuovamente, a nome di Zona Mista i migliori auguri per questa tua esperienza così importante e noi continueremo assolutamente a seguire i tuoi successi. Grazie mille, a presto.